Bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qua su Football Manager 2023 con il nostro Bari e il nostro Giampaolo, ebbene sì, ebbene sì Allora, oggi si va ad iniziare il campionato di Serie B e contro il Palermo, contro il Palermo, vedremo subito di che pasta siamo fatti Vediamo un attimo, scelta veloce, cosa mi consigliano da Aztec e che dirà E se cambio? Meglio cambiare, meglio cambiare Vacca, abbiamo già detto che non gioca, mi dispiace Piuttosto metto Iagello, Giagello, scusate Maita, sì, anzi è Strela che aveva ben figurato nel debutto Vicari, Corbo e Capradossi, direi che ci siamo Si può andare, io sono veramente euforico, come qualcuno disse a tempo fa E ci proviamo, ci proviamo Ci si prova, rega, con la valla spacca eh Questo è l'anno che deve essere quello giusto, non c'è cosa che tenga Veramente Non possiamo sbagliare, non possiamo permetterci di rimanere un altro anno in Serie B Non possiamo, non possiamo Allora io punterò a qualificarmi con un secondo posto o vincere il campionato Ma già i playoff sarebbe un buon risultato Visto che sono scese squadre di caratura interessante Ecco Benissimo, benissimo Certo che, certo che se Corbo mi parte così La vedo alquanto difficile da portare a casa Ah, Corbo, Corbo, Corbo Che mi salta, mi salta così a vuoto Corbo, Corbo, Corbo Al primo tiro subiamo gol da Mazzocchi Il punto è che stiamo dominando Quattro tiri a uno, possesso maggiore ma comunque non riusciamo a buttarla dentro Corbo Estrella Bravo, bravo Mannaggia, mannaggia Dai, dai, dai Che ci siamo Dai, dai, dai che ci siamo Giaciello Caprodossi Caprodossi Bravo Giaciello Corbo Bove Molto indietro Non so perché Fiamozzi Fiamozzi Tenta il cross Lo tenta, non lo tenta Ma c'è Bove Caprodossi Cosa fa Fiamozzi? Fiamozzi Sto a posto? Fiamozzi ha Diciamo che non è riuscito a capire bene cosa doveva fare Si è buggato Bravo Estrella Per Chedira Chedira Walid Primo gol della stagione Per Walid Chedira Chi è che ha fatto l'assist? Estrella Estrella Bellissimo Bravo Estrella E il mister Ha fatto una buona scelta A metterlo Titolare Questo ragazzo che Ci sta piacendo tantissimo Ripartenza Palermo È incredibile Il Palermo fa un tiro Fa gol Siamo sfortunati anche Oltre che Imbarazzanti in difesa Non può essere che ogni tiro che fa il Palermo è gol Cioè Non può essere Mi rifiuto Non è possibile Non è proprio Scientificamente possibile Non ci siamo ragazzi Azzetich Parliamone Assist di Chedira Porca miseria Che botta Allora Soddisfatto Soddisfatto Non è troppo positivo Né troppo negativo Però rega Dobbiamo portarla a casa Questa partita su Intanto Giagello è quello che sta giocando Meno bene Di tutti Vasco Valz Vasco Valz Giagello non mi sta impressionando In questa partita Ahimè Vasco Valz Buona apertura per Fiamozzi Fiamozzi La passa indietro A Bove Fiamozzi Vabbè però rega Che sfiga eh Ricci Eh vabbè Niente Non sa da fare Non sa da fare No 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 Bravo Bove Allora C'è Bicari Che è un po' stanco No 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 Ho sbagliato Bicarica è un po' stanco Mettiamo Zanzuzek Poi Oh rega Vabbè 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 Allora Giacomo Ricci È leggermente Infortunato Fa vede Ricci Nostrom è il migliore Metti Nostrom A questo punto A questo punto Dai ragazzi Dai Portiamo la casa Portiamo la casa Recupero palla Zuzek Ancora Zuzek Per Nostrom Che dire Buona la palla Lazetich Fiamozzi No 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 Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Allora Che dire Stanco Mettiamo dentro Shadler Ho fatto Perché non posso fare i cambi Ne ho fatti tre Vabbè Vabbè Pareggio Che non mi ha soddisfatto Contento Sì ma non mi ha soddisfatto In pieno È giusto per dare un po' di morale Alla squadra Si parte con un pareggio Mi aspettavo qualcosa di più Rizzi Uomo partita delle riserve Hai capito Rizzi Sta crescendo tanto Abbiamo pure vinto contro il Palermo Michelino Lo so Michelino 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 Torna Torna Ci manca tantissimo Michelino Niente Ricci tre settimane Ricci tre settimane Nostrom Debutta Che dire Splendido Vabbè Vabbè ragazzi Che devo dirvi io C'è C'è da piangere Perché è un pareggio Che non mi è piaciuto molto Abbiamo giocato bene Ok però No Il Parma come prestito Allora scusatemi eh Eh Allora anch'io Prestito Facciamo 50% Costo futuro opzionale 800 Rega Rega 825 850 Vabbè Vabbè Oh Costo futuro opzionale Abbastanza basso 2x2 Adesso vale 650 Ma potremo anche non riscattarlo In caso Non è un problema Potremmo comprarlo Procedibile Quanti soldi abbiamo No Non ci abbiamo i soldi Ragazzi Però scusatemi eh No vabbè Va bene Va bene il prestito Per il momento Massimo lo compriamo Il prossimo anno Per il primo anno Di serie A Nel caso che ci andiamo Michelino No Cos'ha accettato Michelino Mi sa che Mi sa che ha accettato Il Parma Vero Ho visto male Si ha accacciato Il Parma Ragazzi Perché Così L'Azzi diceva E' meglio come seconda punta Nordstrom Anche perché Anche perché Ma perché poi così Un e mezzo di stella Cambia ruolo Siamo due Cos'è meno un po' più A suo agio Vacca non gioca Vacca no Allora Come te lo devo dire In francese Chiamestrela Terra nova Allora Proviamo Dobbiamo riscattarci Dopo il Palermo Non sarà semplice Però io Ci spero tanto In un riscatto Anche se La Francavilla Viene in su Dalla serie C Quindi in teoria Dovrebbe essere Un avversario Il più debole Del Palermo Ecco Che dirà Si mangia subito Un gol davanti alla porta Clamoroso Questo era clamoroso Ragazzi Giaggello Calcio d'angolo No Lazetich Mannaggia Lazetich Vabbè raga Con molta calma Comunque Non stiamo giocando male Anzi Anzi Sì però Sì però Svegliamoci Nordstrom Buona la palla Però che dirà Si addormenta Se la fa rubare Riparte la Virtus Riparte la Virtus Se vabbè Se vabbè Ancora la Virtus Che sta venendo fuori Pian piano Bravo Capradossi Ripartiamo Fiamozzi Se la fa tutta Se la fa tutta Quasi Per Bove Bove No No Mannaggia Boh Che è successo Non ho capito bene So che l'ha parata Ma non ho visto Che ha tirato Cos'è successo Calcio d'angolo Giaggello Tenterà il cross Non c'è nessuno Non c'è nessuno Che riesce a raccogliere Eh non è facile Non è facile Non è per niente facile Niente Primo tempo Mi sa che sta andando In bacca Allora Amareggiato Eh scusatemi Siamo contro La squadra Che vende dalla serie C Mi faccio a essere contento Allora Che dire Non mi sta giocando bene Purtroppo Vuole dirlo Ma oggi Non mi sta Mettiamo Rauti Nicola Rauti Al debutto Anche Nordstrom Mi sta giocando bene Siamo Vasco Valz Eh anche Bove Però Però Bove Non vorrei cambiarlo Ma se gli cambio il ruolo Proviamo Proviamo Vediamo cosa accade Rauti Ti prego Salvaci tu Abbiamo preso come una scommessa Speriamo bene che ci possi Ci possi Tu ci possa soddisfare Niente Facciamo fatica Dai Giogello Rauti Rauti La scommessa Del Del mister Giampaolo Porta in vantaggio Il Bari Dai Glierega Bravi 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 Dai Rauti In goal Metti vacca Dai Solo perché Non c'è nessun altro Poi Sei stanco Dai Mamma mia Cosa ha preso Caprile Bove Deve anche un po' Riposare Non può giocare tutte Giustamente Anche Estrella è molto stanco Dai Dai ragazzi Su Dai ragazzi Dai Dai Manca poco Manca poco Manca poco Metti Johnson Non te preoccupa Non te preoccupa Vai Si porta a casa Una vittoria Finalmente 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 Bravi ragazzi Felicissimo Veramente felice Felice Siamo quinti Al momento Ma è ancora presto Per parlare Bisogna vedere A metà stagione Come si è messi Rauti Al debutto Goal Comunque Sarebbe un'ala Ma anche come Centravanti Ha delle buone statistiche Poi in realtà Guardandoci Ha poco intuito Però Non è complesso Non è malaccio Il Verona Vince Il Verona Il Verona Il Verona Il Verona è tosto È tosto In serie B Verona Allora Prendi parte Vediamo se Perché è calato Di valore Non ho capito Sta cosa Ma te sei pazzo E con che gioco Io Con che gioco Ma quale prestito Ma vai via Chi è questo Patrick Feifer Si chiama questo Veramente Fate gli scherzi Gioca nel Napoli Beh Guardaci un attimo E raga Questo qui Questo qui Raga Questo Non ho i soldi Però io Bene Si vabbè Si vabbè Si vabbè No 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 Non possiamo Però potremmo Forse Aspetta un attimo No Dove è finito Dicevo Dove sta Non lo trovo Dove sta Staff Centro dati Ma porca miseria Staff Uffa Vabbè Vabbè Vasco Vazio Infortunato No No Cinque Sette Giorni Ma quale Gaetano Ma No Ma posso chiedere qualcosa Alla società O mi manda A fare A quel paese Vabbè Nuovo contratto Così a vuoto Perché ci va Infatti Rifiutato Benissimo Si Si Il pulcino Se ne va Pulcino Se ne va Vabbè Che è mille euro Però almeno Però almeno Ci capiamo di ingaggio Il 318 mila euro Scusatemi Non giocava mai È una pesa per il culo Però Vabbè Accettato Ciao Ciao Cucino Ciao Cucino Dispiace Però non facevi parte Della 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 Tattica No Quindi Anche poco senso Parte di rimanere Non mi interessa Non mi interessa Neanche Di cucino Ora È finito Il calciomercato Facciamo un po' D'attacco Visto che In attacco Non è che Stiamo proprio Segnando a mitraglia Anzi Anzi Estrada È stato convocato Vabbè Che L'angola Penso che Non possa fare a meno Zuse Che infortunato Amalora Amalora Con chi gioco Io fra poco Con Modena Con chi gioco Delusi D'aspetto economico Ma lascia fa Ma Ma lascia fa Fai Fai a che sa fare Allora Niente Ma porca Così Così è meglio Così Nordstrom Perché non è ancora Tornato Ricci No Vacca Perché vacca Estrella Bove Giaggello Fiammozzi E per il resto Va benissimo La squadra c'è È in forma E Nordstrom Se ne farà una ragione Mi finirà la partita Perché mi sa che Vabbè che c'è anche Johnson Quindi potrei mettere lui Nel secondo tempo Nel caso Vai 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 Col Modena In casa L'unico risultato possibile La vittoria Mamma mia però Bravo Fiammozzi Però si fa Perdonare Nordstrom Nordstrom Va da solo Nordstrom Nordstrom Vamos Un a zero bari Dopo due minuti E otto secondi Hai capito? Bravo comunque Bravo 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 Loda La partenza Mi è piaciuta Assai Mi è assai piaciuta Nordstrom Vai dalla palla Perché tira Mettere in mezzo Estrela No Bove Ma che è Ma che è sto tiro Bove Io ti voglio bene So che è un grande potenziale Però Mi è passata Non è che sei Indagato in calcio Scommesse Diccelo Nel caso Capradossi Corbo Estrela Perché tira Cos'è 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 Aiuto Ma cos'è sto tiro Dritto per dritto Senza potenza Senza niente Svogliato Sembrava quasi Che fosse costretto Tirare in porta Non facciamo cavolate Ragazzi Cos'è Bella L'Az Eh l'Az Ti spero dormi Anche tu Eh La realtà non me l'aspettavo La realtà non me l'aspettavo proprio Che dormissi Così tanto Dai però ragazzi Su Come siamo molli Come siamo molli In difesa Eh Mamma mia Mamma mia Come siamo molli Veramente Porca miseria Abbiamo già tre Ammuniti Perfetto Allora Allora Amareggiato Assolutamente Si Perché dai Si può far di più Corbo Capradossi Eh vabbè Niente Dai Fiamozzi Bravo Fiamozzi Ancora Fiamozzi L'Az Zetich No Nordstrom No Eh vabbè Calma Calma Riconquistiamo Questo pallone Dai che sbagliano Bravo Corbo Eh però Fiamozzi Dormi Oh Fiamozzi Ne fa Una fatta male Poi dopo La recupera Non so perché Fa così Gioca così Gioca L'Az Zetich Se ne va L'Az Zetich Se ne va L'Az Zetich Cosa fa Passare in mezzo Passare in mezzo Perché tiri Metti Johnson Va come Infortunato Tira 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 Che ti tiri Condizione fisica No È complesso Più che altro È vuoto Bove 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 Non si trova bene Vediamo un po' Forse È il ruolo Potrebbe essere anche il ruolo Il problema Perché lui può fare Tanto bene Cosa fa tanto bene Di quantità Andiamo a far quantità Ragazzi Poi Estrela Estrela è già munito Io eviterei Diamo Maita E per il resto Due cambi fatti E dire Non mi sta piacendo Mettiamo Rauti Che ha segnato Quindi Io confermo Eh Lo confermo Rauti Lo confermo Assolutamente Ci ha salvato La scorsa partita Metti Muaremovic Che anche lui Debutta No eh Mamma mia Che rischio Che rischio Che rischio Che rischio Oh raga Però C'è Offensiva Andiamo a vincere Maita No vabbè Che è successo Lì in mezzo Che non si è capito Una fava Ruba sta palla Ruba sta palla Per favore No eh Come sa che qua Corbo Cosa fate Cosa fate Ma cosa state facendo Pazzi Pazzi Ma che squadra C'ho Ma cos'è Ma manco Io faccio Sta roba No vabbè Buoh 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 Michelino No No io non ho parole Uno Corbo Che cavolo fa Due il portiere Io non so Chi sia peggiore Tra Corbo E il portiere Io non so Chi sia stato Il peggiore In quell'azione Tutte e due Deliranti A dire poco Deliranti Veramente Deliranti Non ci siamo Proprio Non ci siamo Proprio Allora Amichevole Visto che Giochiamo In 16 Ne facciamo Uno del 10 Contro L'Atalanta Facciamo qualche Soldino Che mai non fa Perché Insomma Si è messi Come si è messi No comunque Imbarazzante Cioè Busisio Sta Crescendo Sta Crescendo Sta Crescendo Pian piano Però Come terzino Mi sta crescendo A me Non come Vabbè Sì Rossetti Infortunato Due tre Giorni Tutti Rotti Tutti Rotti C'è niente Da far No comunque Io non Mi spiego Quella sconfitta Che abbiamo subito Nell'ultima partita Col Modena Non me la spiego Io non Me la spiego Muaremovic Eh però Acqua Acqua ha fatto gol Sta crollando Acqua Perché sta crollando Bove ha giocato Abbastanza bene Caprile Potenziale notevole Ma 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 C'era C'era Edera Nel Modena Voto 10 Nelle riserve Però Estrela Ha giocato Vali Atalanta Giocano le riserve Giustamente Altri sono in nazionale Facciamo Gioca per Per vincere Proviamo Con l'Atalanta Ma Abbiamo perso Comunque Nel zero Basta Ricci Infortunato Che bello No 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 Ma No Ma Cosa c'entra 8 9 mesi Beh 7 8 Tanto Alla fine Non tornerebbe Comunque Per il campionato Quindi Perché pagare Quando tanto Non torna Allo stesso 8 9 mesi Mi salta Tutta la stagione Raga Tutta la stagione Tutta Tutta Non ne posso più Non ne posso più Oggi Episodio Veramente Nero Nero Eh strella Ha fatto Assist Bravo Che brutto Episodio Quest'oggi Ragazzi Che sta Venendo Fuori Mi dispiace Mi dispiace Io mi fermo Qua Perché Per evitare Altre Altre Brutte Notizie Mi fermo Qua Va Benissimo Ci becchiamo Alla prossima Ciao ragazzi Aiutatemi Aiutatemi Alla prossima